eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo e giornaliero sul mondo di call of duty oggi una nuova breaking news sulla modalità zombie se da voi tanto richiesta in merito a call of duty black ops 4 come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace arriviamo a 500 per il prossimo video informativo abbiamo visto come in queste ultime due settimane la trailer che stia rilasciando veramente tantissimi easter egg in merito all'attesissima modalità zombies appunto del suo nuovo capitolo che vi ricordo arriverà il 12 di ottobre con beta multiplayer fissata per il 3 di agosto nei giorni passati è stato rivelato la divinità zeus alcuni giorni fa avete visto sul mio canale il video news che riportava un pacco a sorpresa inviata la youtuber noa j456 dove era stata inviata la statua di odino mentre nella notte è arrivata una nuova notizia direttamente da mister dalek jd infatti la trailer che ha inviato un altro pacco segreto all'interno di questo pacco come state vedendo è stata trovata un'altra divinità quindi dopo zeus dopo dino è stato trovato danu che fa parte praticamente della mitologia irlandese ed è a quanto pare una divinità primordiale irlandese che sembrerebbe legata a quanto pare alle acque quindi continuano questi grandi richiami a diverse divinità per quanto riguarda la trailer che quindi si fa sempre più insistente l'indiscrezione che all'interno del gioco ci saranno mitologie diverse ma più che mitologie ci saranno proprio poteri abbinati appunto alle diverse mitologie quindi sicuramente nei prossimi giorni saranno svelate in nuove divinità di altre mitologie legate sempre a dei poteri questo qua ancora in molti non riescono ad abbinarlo a un vero e proprio potere perché zeus faceva venire in mente appunto al potere e alla scarica elettrica odino fa pensare a poteri come la forza l'agilità o la velocità mentre danu è legata a quanto pare praticamente alle acque molti penserebbero una sorta di quick revive però non si sa come mai abbinino appunto questa cosa a danu ma allo stato attuale è ancora un'ipotesi come sempre anche sotto questa stato è stato trovato un codice che si sta cercando di decodificare per capire qual è il significato quindi continuano i segreti che girano intorno alla nuova modalità zombies di call of duty black ops 4 qui sotto nei commenti fatemi sapere voi che cosa pensate di tutta questa situazione arriviamo a 500 piace del prossimo video informativo e noi ci vediamo con tanti nuovi video